In questa casa qui, che vi può sembrare una classicissima casa sperduta in una foresta del Vietnam, ho subito un K.O. tecnico da una rana. Adesso ve lo racconto. Ciao, benvenuti in una coltivazione di alberi di lattice. E giustamente potreste dire è a noi che oggi hanno fatto giusto. Mi serviva soltanto come contesto per farvi vedere questa che è stata a casa mia negli ultimi giorni in Vietnam all'interno di una foresta barra campo agricolo completamente nel nulla. Voi la vedete così, tutta carina con il giardino, la foresta, varie sfumature di colore, la moto all'interno. Di giorno, di notte vi cacate letteralmente sotto perché qui non c'è niente intorno. Per andare nella città più vicina ci vogliono 10 minuti di moto e non ci sono luci per strada. Se non state minimamente bene con voi stessi, cominciano a emergere tutte quelle paure del tipo, qua se mi uccidono nessuno mi trova più, adesso entra il lupo mannaro, se vi doveste immesesimare in me sono da solo. Cioè, nemmeno a dire sto in compagnia di qualcuno. No, no, se succede qualcosa sono fottuto. E in più ho dovuto combattere con una rana che adesso vi racconto. Oggi home to e racconti di base. Partiamo dal cancelletto. Voi lo aprite, lo chiudete. Bello solido, di legno. Ok, tutto a posto. Qui c'è la zona relax dove potete mettervi a scrivere, a leggere, a guardare il tramonto e l'alba. Parcheggio, pozzo dell'acqua immagino. Barbecue, un tanto di mozziconi in omaggio. La cosa interessante è che le porte non hanno le serrature e non potete entrare da qui. Oppure questa, se la chiudete, non potete entrare. Cioè, se la chiudete dall'interno. Perché l'unica porta d'ingresso si trova facendo questo piccolo giardinetto arrivando qui e questa è l'unica porta d'ingresso che viene chiusa con un lucchetto. Guardate com'è carino. Da notare che questa, essendo una coltivazione, gli alberi sono messi in maniera geometrica molto precisa. Entriamo! Vi faccio vedere, casa mia in Vietnam. Entrati, trovate questa fantastica tenda che se la spostiamo c'è questa parte di disimpegno della casa dove c'è anche un frigorifero. Ma la chicca qui è il fatto che stai in mezzo alla natura, fa caldo, che fai? Solo muri? No! Hanno creato questa cosa trasparente. Cioè, tipo io mi immagino uno che vi vuole uccidere e tipo voi arrivate qui, la sera vedete lui dall'esterno che però non può entrare, però voi lo vedete, lui vede voi. Che poi qui, ripeto, fuori, la notte non c'è nessuna luce, cioè quindi diventa totalmente buio. Al di là di questo aspetto notturno è fighissima perché quando vi svegliate la mattina, venite qui ed è come se stesse veramente nel bosco. Senza parlare del fatto che quando girate nudi per casa, se vi vede qualcuno, che sono f***. Entrando più nel merito, qui ci sono i vari piatti. Qua ci entriamo dopo perché è importante. Lì dentro è successo un fighting allucinante. è un qualcosa che se lo riprendevo diventava probabilmente la persona più famosa del mondo. Fatto sta che da questa zona di disimpegno, altra tenda, e si arriva qui. C'è la scrivania dove sto lavorando. Tablet, robe varie, passaporto, power bank, roba della GoPro, SD, collana, GoPro. E in più, cosa che voglio mettere anche in stanza mia a Napoli, una maca. Così. Quindi voi passate da lavorare a stendervi qua, grattandovi la wallera. E poi qui c'è l'altra zona di casa che non uso. La cosa stranissima è il fatto che l'unico specchio di casa si trova qui. E un'altra cosa stranissima, come se questo non bastasse, lì ci sono i piatti, ma qui non c'è nessuna cucina. Anche dove sono collocate le luci, è tutto strano perché sono tipo al lato opposto delle porte. Voi entrate, non è che c'è la luce qui o qui per entrare qui. No, è dall'altro lato. È voluto il proprietario di casa. Nice, dove venite? Cioè, mi ha portato una barca. Lo gonfio e vado da una. Ok, ok. Vai. Non ho visto nessuno negli ultimi giorni, arriva proprio mentre sto facendo il video. Non un secondo prima, non un secondo dopo. Mentre lo sto facendo e mentre sto registrando nella camera da letto. Vabbè. Comunque, senza farvela lunga, questa è una barca gonfiabile che me l'hanno portata perché qui c'è un lago. Però, però, devo partire quindi mi sa che non lo faccio. Anche perché non conosco il lago, quindi boh. Cioè, non sono le correnti. Da solo vorrei evitare di farlo. Cioè, di gonfiare una barca, andare in un lago in Vietnam, così. Capiterei. Però sono stati molto gentili. Tornando a noi. Il letto è bellissimo perché mi ricorda molto i futon giapponesi dove praticamente non c'è letto e questa si potrebbe usare benissimo come una tavola. Questo è il lenzuolo da cambiare ogni volta. Questa è la rete per gli animali. La zanzariera. Salendo, che ovviamente la casa non è finita, ci ritroviamo qui, che è un altro letto, che ovviamente, per ovvi motivi, non ho usato. Adesso arriviamo alla parte clou. Vi racconto anche il fighting che c'è stato in questa casa la prima notte. Come avete notato, l'unica stanza che non vi ho fatto vedere è il bagno. È sta roba qui. Il bagno è molto interessante perché ci sono queste lamiere di un materiale plasticoso dove qui è aperto in maniera tale che quando piove o scende acqua dagli alberi in generale poi cade qui su queste piante che sono vere, cioè non sono sintetiche. E questo braccio di legno appoggiato fa da guardaroba. E c'è uno spazio immenso, cioè ci potreste anche dormire. Qui c'è il bagno, docino per il bidet e doccia. E questa qui è una giara enorme dove c'è l'acqua per usarla per ciacquarsi e fare come se fosse una sorta di lavandino. Allora, adesso vi racconto il fighting allucinante. Il primo giorno che ero venuto qui era nottepesta. Stanchissimo perché era stata una giornata pesantissima, iniziata la mattina prestissimo e conclusa giusto giusto con sei ore di moto nel pomeriggio. Poi arrivare qui mi spoglio completamente, completamente disorientato perché qui nel buio, come dicevo prima, è completamente oscuro. Entro nel bagno, intanto ho detto che ci sarà mai, anche se ogni tanto sento dei suoni strani, di acqua, sento pua 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 pua. Dico che c***o sarà mai, completamente nudo con l'intenzione di farmi la doccia. Vado in bagno, sto in bagno, mi leggo un libro, sto così e a un certo punto da quella giara lì compare una rana tutta marrone, grande così. C'è una foto, grande così, si mette all'impiedi qua, mi fissa, io la fisso e dico più la fisso più quella magari si spaventa, entra dentro, non lo so, fa qualcosa. E infatti qualcosa l'ha fatto. Mentre la fissavo mi salta addosso, una bestia grande così. La mia reazione è stata alzarmi, per terra era tutto bagnato. Nel frattempo immaginatevi che stavo tipo urlando del tipo aaaah porca puttana. Tutto bagnato, scivolo e sbatto la testa contro la giara. Tutto nudo, con il libro ormai lanciato oltrove, questa rana che saltava ovunque. E questa è la storia di come in una casa sperduta in Vietnam ho subito un KO tecnico da una rana. Questo video avrei potuto farlo anche solo per raccontarvi questa cosa. Perché è stato epico, cioè ma è stato epico. Tutto dolorante, la testa mi faceva malissimo, ho scivolato. Qui se facevo un video ero il meme del mondo. E va bene, queste esperienze le potete fare soltanto se andate in un campo sperduto in Vietnam a dormire di notte. Mi chiedevo come facessero qui nel nulla a buttare la spazzatura. Come faccio l'апostuto il mondo. L'amore della spazzatura. L'amore della spazzatura. Tutto il mondo.